il regno delle clansford inizia con molte difficoltà tra sceneggiata di adi chupan account instagram disattivato a causa dei commenti d'odio e in più queste accuse di bozzi sui dorsali direi che Derek non può dormire sogni tranquilli infatti in questi giorni mi avete bombardato con questa foto che fa vedere questi bozzi strani sui dorsali di Derek e devo dire che sinceramente non so cosa siano quindi non penso che né io né altri abbiano la risposta nonostante su internet tra i commenti ci sono sempre degli esperti sono tutti quanti esperti tra i commenti poi però non si scopre mai la verità la sanno loro a prescindere dalla loro cameretta però c'è sempre qual quadra che non cosa qualcosa che non quadra quindi questo è front double bicep di quest'anno e si vedono questi due bozzi strani nei dorsali si parla di sintol però la cosa che mi fa un po' strano è che comunque è una zona strana dove fai iniezioni di sintol io non ne ho mai viste e in più non è che Derek non abbia dorsali anzi cioè ha un vitae per praticamente immacolato perfetto vita stretta spalle larghe vacuum dorsali che si allargano bene quindi cioè è strano iniezione in quel punto non dico che non sia possibile questo invece è in front al bicep dell'anno scorso quindi questi bozzi c'era anche l'anno scorso però sono passati abbastanza inosservati cioè non so perché l'anno scorso no quest'anno sì non so se sia per trovare il pelo nell'uovo o per andare contro Derek per creare polemiche inutili perché cioè io non voglio creare polemiche inutili sto solo rispondendo a questa cosa perché mi avete davvero chiesto in tanti ma tornando indietro nel tempo anche nel 2021 e questa è la sua versione al 212 si intravedono questi bozzi strani sono meno vistosi dell'anno scorso e anche di quest'anno soprattutto però c'erano anche quell'anno quindi a me per quanto non sia un esperto e non voglia fare per forza speculazioni mi sembra difficile pensare che siano Sintol perché ha un V-Taper perfetto come detto dei dorsali che si allargano molto molto bene e in più è fatto in una zona in cui mi sembrerebbe strano farlo cioè se io avessi problemi dorsali me lo farei un po' più in basso per aumentare magari l'attaccatura cioè per renderla più bassa rispetto a un bodybuilder che magari ha un'attaccatura molto alta e che quindi stona un po' però così in alto mi sembra molto strano questa invece è una foto del 2017 dove sembra che non ci sia niente o comunque se c'è qualcosa è molto ben nascosto poi come vediamo adesso in questa foto un po' zoomata cioè la stessa foto zoomata forse si intravede qualcosa però cioè stiamo davvero andando a cercare il pelo nell'uovo un ago in un pagliaio perché se c'è qualcosa era agli albori se ha un problema era agli albori e poi è magari progressivamente peggiorato quindi è davvero difficile dare una risposta io qui sto cercando semplicemente di trovare delle foto, dei video dove si vedono questi cosi è abbastanza evidente come cosa soprattutto quando alza le braccia o quando fai fronte al bicep o anche quando non fa pose è evidente che ci sia qualcosa sul fatto che sia sintol non lo so perché è una zona strana dove fare il sintol in genere quando si fanno cose del genere si fa in zone dove il bodybuilder ha dei problemi dove non ha per carenze genetiche o per infortuni o per qualsiasi altro motivo una carenza muscolare tipo gli avambracci pensiamo che ne sono un principiana o i tricipiti Ernie Taylor e ho fatto un video sui tricipiti di Ernie Taylor quindi magari andatevelo a cercare oppure del toro di posteriori le accuse a di Ciupan in tutti questi anni contando che anche Bob Ciccherillo che è comunque l'annunziatore del Mister Olimpia uno molto vicino ai piani alti dell'FUV ha detto che era stato un problema quando era stato giudicato i primi anni quindi si parla in genere di zone più piccole più periferiche magari non muscoli grossi perché quando ci si fa queste iniezioni dove ci sono muscoli grossi è più difficile non notarle ed è anche quasi più inutile perché è difficile non avere comunque un petto grosso rispetto a gruppi muscolari più piccoli oppure nei deltoidi oppure nei quadricipiti c'è l'istona di più per questo mi sembra strano anche perché Derek non ha di queste carenze è molto molto equilibrato oppure tipo nei polpacci altro posto dove si fa il sintolo si mettono delle proteine sono tutti muscoli più piccoli rispetto a dei dorsali a dei quadricipiti a dei glutei a dei femorali e anche Big Ram mi aveva avuto l'anno scorso qualche sospetto nei glutei perché c'erano dei bozzi strani quindi per tutti questi motivi mi sembra difficile che sia sintolo potrebbe essere magari non lo so qualche iniezione di creatina o zinco o magnesio perché sono sostanze abbastanza dopanti sto scherzando chiaramente dico qualche altra iniezione o punturina però se c'è davvero qualcuno esperto di queste cose non il tipo che dalla cameretta dice io lo so è sintolo bla 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 perché bla 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 è ovvio mi fanno morire quelli che lasciano questi commenti beh è ovvio che sia così certo ma che cazzo ne sai non è ovvio cioè a meno che tu non abbia qualche tipo di preparazione in materia o non te lo sia affatto tu il sintolo cioè non è ovvio manco vogaz che sia così quindi direi che non è da escludere completamente questa cosa perché sono bodybuilder cioè non penso si mettano troppi problemi a iniettarsi qualcosa o a cercare di migliorare il proprio fisico quando il bodybuilding è una disciplina estetica però come ho detto in genere viene fatto in zona del corpo dove ci sono delle carenze muscolari evidenti oppure dove i muscoli sono più piccoli questa è la mia esperienza visiva da spettatore da fan del bodybuilding e non dico ovviamente che non siano strani che non siano belli da vedere e che ovviamente sarebbe meglio senza quindi è giusto farsi queste domande è giusto avere dei sospetti dei dubbi però non sappiamo la verità quindi lascio la parola a voi se volete fare i complottisti se avete ipotesi e soprattutto se qualcuno ne sa qualcosa o ha già visto cose del genere io la mia l'ho detta non volevo fare troppe speculazioni però alla fine è stato ovvio farle più o meno perché di questo si tratta quindi scrivete e poi vedremo come si evolverà la situazione se ne parleranno a lui se ne parleranno altri se avremo una risposta definitiva a questo dubbio buona grazie a tutti Grazie a tutti.